Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day. Chialai che non ho bisogno del Signore come che ho bisogno di respirare. E se non fossi noi, quello creare il Signore? Di modo che in una certa forma anche lui aveva bisogno di noi perché non lo sa creare. Ho bisogno di avere qualche don di prea, di poiarsi. Aldo mi diceva che i fassi indurre gli atei, perché diceva cui puoi non prea, cui puoi non blestemare. Ecco, lui aveva bisogno di noi e noi aveva bisogno di lui. E al disse il Signore, che è dal Vangelo, che si fassi poi fieste talcì per un peccatore che si convertisse, che non per 99 fiusi. Tanto a dire che lui è tanto misericordioso e ha di soltanto che mai quante noi li incontri, quante ho vinto dei nostri spettatori per tornare a chialarlo lui. Insomma, alle come i genitori, che vinti figli siano rognis e soddisfazioni, come i genitori. Buona giornata e buona vita!